Fabrizio Pirrarelli, appena finita la finale, siete i campioni, appena iniziata la stagione, ve lo aspettavate? Ma allora, l'obiettivo era essere protagonista, quello è inutile negarlo, era un nuovo inizio perché comunque il campo cavallo è nato sulle cegneri della stampaggia e dopo due anni insomma particolarmente strani c'era tanta voglia di cominciare. E' una grandissima soddisfazione, anche perché per me è la prima volta, con la stampaggia ci eravamo andati vicini, in finale forse un paio di volte, io in finale mai, e quest'anno vesto la fascia e insomma tra un po' alzerò la coppa, è una grande soddisfazione, ma soprattutto è un grandissimo premio per questo gruppo che si è formato, che ha affrontato un protesi tortuoso, come ha detto il mister, perché abbiamo avuto difficoltà ma ci siamo ritrovati e insomma ce la guidiamo tutta fino alla fine. Partita difficile, siete andati sotto, poi fino in primo tempo è arrivato il pareggio, poi avete diragato. Con la GSA è sempre difficile, è sempre difficile, sinceramente siamo andati sotto ma anche un po' immeritatamente perché il loro portiere ha fatto due parate miracolose e quindi c'era quel pizzico di... fortunatamente abbiamo trovato quel gol allo scadere e il secondo tempo siamo stati... C'era un'altra brillantezza. Sì, perché comunque abbiamo preso quella fiducia fondamentale, poi all'inizio abbiamo sfruttato sicuro con le due occasioni e siamo stati bravi poi a non abbassare mai la guardia. Alla fine loro hanno provato tutto per tutto e lì siamo stati ancora più bravi a sfruttare massimo l'assenza del loro portiere, anche il Vederese ha fatto il gol con il Pio e insomma... e quei segnali che ti dice che la volta è buona... Dove è andato così... Dove è andato così... Comunque complimenti anche alla GSA perché si sono dimostrata come sempre una grande squadra... non credo che sia un caso che il campionato non abbiano mai perso... Tra piccolette abbiamo la soddisfazione della tua seconda sconfitta perché prima stava terza ma non contava... Con noi è ancora più bello insomma... L'unica sconfitta che conta è con noi... Va bene, allora ci vediamo la prima azione... Diamo la prima azione, grazie...